ciao da luci oggi insieme faremo questo graziosissimo astuccio ora vi svelo anche il mistero dell'astuccio perché di solito gli astucci sono un po fastidiosi da fare perché bisogna foderarli attaccare le cerniere in realtà vedete io ho semplicemente creato una cover ecco qui ho semplicemente creato una cover per un astuccio di questi trasparenti già esistenti vedete questo qua è in parte plasticato in parte fatto con la retina ha la sua bella cernierina in realtà questo ne ha due ma io trovo scomodo scomoda questa tasca anche perché molto piccola e di conseguenza andrò a ricoprire questa cerniera e terrò soltanto questa parte io questo astuccio l'ho comprato in un negozio cinese quindi comunque sono quelli da forse ho pagato 60 centesimi cioè proprio sono quelli da pochino e gli ho semplicemente fatto una cover ora vi dico già tutti i materiali che ho usato quindi ho usato l'astuccio ho usato io nel mio caso per il mio filato un uncinetto numero 4 il mio bel gomitorino di cotone e vi assicuro che questo è sufficiente per fare un astuccio quindi va bene anche se avete degli avanzini in questo caso io vi dico che questo è un avanzo di una cake e in particolare è il pure cotton di icy arms voi sapete io acquisto sempre da italia artisan e anche questo l'ho comprato la vedete che bell'effetto anche maculato molto bello comunque una bella divisione di colori anche qualche macchiettina mi piaceva molto e quindi ho usato il cotone potete usare anche l'ana potete usare qualsiasi cosa un metro per prendere le misure queste pinzettine che vi serviranno poi per unire per appoggiare la cover sull'astuccio in attesa di essere cucita nel mio caso ho avevo questo ninnolo diciamo decorativo ho deciso di decorare potete metterci dei bottoncini anche niente se l'avete poi ho prima di rifinire il mio astuccio ho cucito la mia etichetta vi faccio vedere che che belline che sono queste etichette queste etichette mi avete chiesto in molte dove acquistarle sono etichette personalizzate e io le ho fatte da fata morgana vi lascerò il link in descrizione guardate come sono carine nello specifico le mie sono state fatte per essere piegate vedete in questo modo si piegano e si cuciono ecco ai bordini quindi da questo lato c'è la il mio logo vediamo se riesco a farvelo vedere da vicino vicino mette a fuoco ecco qua da questo lato c'è il mio logo e dall'altro lato la scritta ecco qua vediamo ve la faccio vedere vicino vicino la scritta handmade ecco qua sono state fatte per me quindi le ho fatte fare personalizzate e le ho fatte fare vedete anche in altri colori quindi color cuoio beige rosa e verde un taglia fili tra i materiali che ci servono mettiamo via le mie belle etichette e del figlio uso del filo della canna da pesca quindi il filo trasparente in nylon io l'ho comprato da canna da pesca nelle mercerie c'è anche appunto per cucire ma vanno benissimo entrambi quindi vediamo subito come si procede per creare il nostro astuccio allora in primis partiamo prendendo la misura del nostro astuccio e rimaniamo un po abbondanti perché il punto che ho usato io tende a stringere un pochino quindi il mio astuccio è 23 centimetri io gliene attaccherò ancora uno farò 24 perché comunque dobbiamo considerare che l'astuccio ci deve stare preciso sì ma può essere che insomma il filo tirando tenda ad accartorciarlo quindi andiamo a montare facciamo un piccolo campione per vedere quante quante catenelle montare ma vi dico che io ne ho montate 40 ora farò solo un campioncino per farvi vedere come ho fatto il mio astuccio e poi sarà l'assemblaggio quello che vi farò vedere in maniera un po più accurata comunque allora vado a montare le mie facciamo 40 catenelle in questo caso io ne faccio giusto una ventina per farvi vedere appunto la lavorazione quindi montiamo le nostre catenelle in questo modo vediamo quante sono 1 2 4 6 8 10 12 14 ecco qua 16 17 18 19 20 quindi montate le mie 20 catenelle vado a fare una ventunesima che ci servirà per fare la prima maglia bassa quindi entriamo nella seconda catenella dall'uncinetto e facciamo la prima maglia bassa nella seguente facciamo la seconda maglia bassa in quella successiva facciamo la terza e così via via fino ad arrivare in fondo alla nostra catenella quindi nella primissima catenella benissimo siamo arrivati in fondo alla nostra catenella vado a lavorare l'ultima maglia e nell'ultima catenella per l'appunto vado a fare una maglia bassa rientro nella stessa ne faccio altre tre per un totale di quattro nella stessa catenella quindi tre e quattro vedete intanto si è girato il lavoro quindi noi siamo nella parte sotto del lavoro ora entriamo in ogni catenella quindi la parte sotto della catenella entriamo e rifacciamo le maglie basse quindi dove c'è la maglia bassa rifacciamo la maglia bassa dall'altro lato quindi vedete prima abbiamo lavorato questo lato ora abbiamo girato attorno e lavoriamo questo e andiamo a fare di nuovo ovviamente le nostre 20 maglie basse 20 senza contare ovviamente le due catenelle che sono state fatte su questo lato quindi noi siamo arrivati qua facendo la ventesima ne abbiamo aggiunte due in realtà ne abbiamo aggiunte tre ma due erano per il bordo e la terza era già del lato sottostante quindi in totale sono quattro ma lateralmente sono solo due spero di aver spiegato bene la cosa comunque andiamo a fare una maglia bassa per ogni maglia bassa già lavorata dall'altro lato e ci vediamo in fondo a questo giro arrivati in fondo anche da questo lato non faccio altro che vedete la prima catenella nella prima catenella d'inizio vado a lavorare sempre tre maglie basse perché sapete la prima l'abbiamo già lavorata inizio giro quindi ne vado a fare tre in questo modo dopodiché chiudo con una maglia bassissima nella primissima maglia bassa lavorata in questo modo abbiamo così la base di partenza per il nostro astuccio da questo momento in poi noi non faremo altro che lavorare a spirale fino ad arrivare all'altezza desiderata quindi comunque tenete presente avete il vostro astuccio e man mano andrete a provare ecco per vedere se la lunghezza è l'altezza scusate è quella che vi serve vi consiglio di tanto in tanto di provare anche a vedere se si infila per vedere se effettivamente avete seguito la misura giusta da questo momento in poi io mi alzerò con due catenelle una sarà una maglia bassa e la seconda una catenella di separazione vado a saltare una maglia bassa sottostante entrò nella prossima e faccio una maglia bassa una catenella salto una maglia bassa sottostante nella seguente una maglia bassa catenella salto una maglia in quella dopo maglia bassa catenella salto una maglia in quella dopo maglia bassa scusate tendo andare nell'angolino quindi di nuovo catenella salto una maglia maglia bassa catenella salto una maglia maglia bassa di nuovo catenella salto una maglia maglia bassa catenella salto una maglia bassa catenella salto una maglia bassa catenella salto una maglia bassa state attenti qua dove abbiamo fatto più maglie basse quindi negli angoli tra virgolette su quelli che ci servono per girare perché essendo quattro catenelle in quattro maglie basse in un'unica catenella tendono a stringersi le maglie quindi potrebbe essere che ne lavorate qualcuno in più quindi catenella controlliamo di saltarne una nella prossima maglia bassa adesso vedete se è giusto dovrebbe fare la curvetta vedete dovrebbe fare così dovrebbe piegarsi a metà il lavoro in questo modo di nuovo catenella saltiamo una maglia maglia bassa 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 catenella vado avanti un pochino senza adesso ripetere perché dovreste averlo capito senza che io dimenti asfissiante nel ripetere il passaggio voglio solo arrivare con voi alla fine per farvi vedere che da questo momento in poi lavorando a spirale noi non andremo più a avere un inizio e una fine quindi anche qua mi raccomando stati attenti a dove entrate catenella siamo all'inizio vedete in questo momento abbiamo lavorato su questa catenella questa la saltiamo ed ora iniziamo a lavorare nelle catenelle che abbiamo fatto nel giro precedente vedete facciamo la catenella per saltare la maglia adesso non dobbiamo più saltare la maglia lavoriamo solo negli spazi delle catenelle quindi in questo qui c'è la maglia entro qui catenella qua c'è la maglia entro nella archetto da una catenella creata nel giro sottostante quindi lavoreremo sempre dove abbiamo fatto questa catenella quindi ora vado qui faccio la catenella salto la maglia vado a lavorare dove ho fatto la catenella di nuovo catenella salto la maglia vado a lavorare dove ho fatto la catenella di nuovo vedete ci sono i forellini si vedono qui forse si vede poco perché è scuro il filato ma vi assicuro che è semplicissimo abbiamo fatto la catenella vedete guardate vediamo se riesco a farvi vedere bene così allora vediamo ecco questo è schiarito ora vedete che qui c'è il forellino sotto ho fatto la maglia bassa salteremo questa maglia andremo a lavorare la maglia bassa proprio all'interno di questo forellino vediamo se riesco a farvelo vedere bene 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 quindi entro qui vedete qua c'è il forellino qua c'è il foro dove abbiamo appena lavorato qua c'è la maglia bassa entriamo nel prossimo forellino quindi in questo modo di nuovo catenella saltiamo la maglia e andiamo a lavorare nel prossimo foro catenella saltiamo la maglia andiamo a lavorare nel prossimo foro dobbiamo andare avanti a lavorare così fino alla fine del nostro astuccio quindi tutto in questo modo mi raccomando all'inizio gli angoli sono ostici perché si vede male lavorate bene perché sennò tende a stringere tutto il lavoro quindi vedete qua devo lavorare mi state attenti un po all'inizio negli angoli poi man mano che salite l'angolo si nota meno e come si dice è più facile lavorare ma all'inizio per evitare di stringere perché sennò vi ritrovate con delle maglie in meno e l'astuccio tenderà a diventare molto stretto e quindi non avere più la misura non farlo salire dritto ma farlo stringere e poi non andrà più bene quindi andiamo avanti così per tutto il nostro astuccio vedete in questo modo ora faccio ancora qualche punto e poi vi faccio vedere come chiudo siccome sto lavorando a spirale vi faccio vedere come chiudo per non far vedere lo scalino perché se lavorate sfida a spirale avrete sempre uno scalino ora io vi faccio vedere come non far vedere lo scalino ma ve lo faccio vedere ho scelto un po filato infelice perché ho beccato proprio la parte scura per farvelo vedere ma adesso vi faccio vedere come si fa allora questo è il nostro lato vedete che sta salendo così adesso si sta piegando allora quando siete messi così io chiudo sempre sul laterale in modo che si noti meno perché magari c'è la cerniera davanti e si nota meno comunque iniziate a lavorare tutte le maglie maglia bassissima quindi dove c'è la catenella dove c'è la maglia bassa in questo modo ecco qua facciamo delle maglie bassissime io ne faccio due o tre io ne faccio due o tre in questo modo scusate mio figlio gli avevo detto di stare zitto ma lui non sta zitto allora vedete ne faccio due o tre entro così dopo di che tiro il filo taglio vedete lo scalino non si vede poi nasconderemo il filo e lo scalino non si vede ma in ogni caso ve lo faccio vedere sul progetto originale lo scalino non si vede assolutamente vedete io ho lavorato in questo modo e non si vede nulla arrivati a questo punto prendiamo il nostro astuccio e lo infiliamo all'interno del ecco qua della nostra cover perché di fatto il mio astuccio una cover infiliamo bene le mani perché io l'ho fatto preciso preciso e devo allargare bene in modo che aderisca bene l'astuccio alla cover se vorrete attaccare etichette decorazioni attaccatele adesso perché poi non potrete più farlo una volta che avrete cucito l'astuccio alla cover non potrete più farlo vedete mi munisco di queste pinzettine se non le avete queste pinzettine potete tranquillamente usare le mollette per i panni io metto queste pinzettine tra l'altro qui ne ho solo due le altre non so dove le messe ma mi serve solo proprio per tenere fermo ecco l'astuccio sulla cover perché se ho deciso che voglio arrivare a questa altezza diciamo che mi aiuta ad essere più precisa nel congiungere ecco l'astuccio ma vedete che non non è assolutamente necessario io poi tra l'altro ne metto una davanti una dietro così riesco a fare tutto bene una volta attaccati quindi le vostre etichette le vostre decorazioni proseguiamo con il cucire l'astuccio alla cover eccoci qua diciamo che ho voluto risparmiarvi la tristezza di vedermi infilare il filo di nylon nel lago perché ci metto veramente molto allora io procedo in questo modo vedete prendo proprio stando a filo dei dentini qui entro da dietro e pizzico il filato in questo modo quindi entrò nella catenella e ovviamente mi tiro il filo tenendone un pezzettino dietro per poi poter chiudere alla fine quindi vedete in questo modo io entro da un lato allora teniamo all'inizio teniamolo questo in modo che ecco qua in questo modo ora siamo di sì siamo dentro rientriamo sopra pizzicando in questo modo e tiriamo su di nuovo entriamo sotto la cerniera quindi non più nel tessuto ma sotto la cerniera in questo modo così diciamo che non aiuta il filo trasparente però è bellissimo la cucitura finale quindi entro così prendendo anche l'astuccio quindi la cover scusate ecco mi ha lasciato sotto la cerniera aspettate filo trasparente è un po' una tragedia ecco qua non avere la cerniera che ci impiccia e tiriamo il nostro filo in questo modo ecco qua quindi quindi nuovamente siamo sul davanti entro nella cerniera e tiro il filo questa è un'operazione un po' delicata che vi consiglio di fare in maniera molto rilassata altrimenti viene fuori un brutto lavoro quindi di nuovo sono sul retro prendo una catenella in questo modo così trascino tutto quello che ho sul tavolo in questo modo ecco qua vedete questo è il filo di base dopodiché entro solo dentro nella cerniera in questo modo vedete che si alza si tira bene la la cover ora andiamo di lato prendo sotto la prima catenella tiro bene il mio filo questo ovviamente sempre la codina è questo che vedete qua rotolato è sempre la codina che io ho tenuto lunga e dopo entro solo nella cerniera in questo modo quindi proseguite così per tutto tutto il nostro astuccio ovviamente adesso non lo cuciamo tutto insieme perché sennò diventa un po così una tortura però vedete che è vero scuro su scuro non si vede quasi niente perché il il filo della canna da pesca ha proprio la peculiarità di essere molto 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 sottile bene io finisco di cucire e ci rivediamo quando ho finito ecco qua il nostro astuccio finito guardate veramente bellino comodo stato facile perfettamente foderato quindi non dovrete fare altro che infilare i vostri trucchi le vostre penne quello che desiderate mettere all'interno con la cerniera comodissima si apre si chiude senza troppo troppa fatica a foderarlo vedete abbiamo una cucitura veramente molto poco visibile adesso con la luce che riflette ecco se riesco a far riflettere la luce si vede perché ovviamente il filo di nylon riflette la luce ma assolutamente non dà fastidio vi dico il vero ho ho iniziato con il cucire pizzicando e poi ho continuato con il classico punto da imbastitura tornando indietro il pezzettino andando avanti perché effettivamente era più veloce ma come vedete la differenza non si vede perché vedete è proprio veramente molto molto bello la cucitura all'interno e quindi cosa facciamo ora riponiamo tutti i nostri oggetti all'interno del nostro astuccio lo chiudiamo e lo possiamo infilare nella nostra borsa io spero che questo progettino facile e velocissimo perché vi assicuro che si fa in un'oretta vi sia piaciuto spero che lo replicherete spero di vedere tante foto con tanti dei vostri astucci sul mio gruppo facebook creando con luce franci vi ricordo per le mie bellissime etichette nelle info vi lascio l'indirizzo il link di fatta morgana e per il filato italia artisan ovviamente questo era il pure cotton io vi do un grosso bacio e vi invito a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto cliccare la campanella per non perdere le notifiche e naturalmente rimanere con me anche per il prossimo tutorial ciao ciao da luci